barzellò sant il nostro hotel questa è la nostra stanza una stanza molto moderna qui c'è una un vetro che separa la zona toilette il bagno i nostri letti e la veduta alla città ah questa è la veduta dalla finestra del nostro hotel vedi le nuvole in agguato però ho guardato su internet e dovrebbe cambiare verso le 10 ora vediamo un attimino se cambia la nostra stanza il letto è comodissimo è gigantesco poi c'è un bagno stranissimo direttamente nella nella stanza guardi faccio vedere tutto poltrona oltre una magica guarda che grande il letto vabbè questo è la parte di vanessa e questa è quella mia di riccardo è enorme è doppio praticamente qui abbiamo il frigo bar qui abbiamo per farci caffè e tè e tutte quelle cose là qui c'è l'armadio è uno specchio questo buongiorno aspetta vediamo se riesco a riprendermi questo qua è tutto specchio questo è l'armadio praticamente a scorrere qui c'è il bagno questa è la cabina per entrare nel gabinetto questo c'è una specie di separe tutta a vetro col bagno in camera e il box doccia corridoio sentono solo le mie ciabattine scensori tutto su scurio siamo nella base spaziale siamo venuti su marte per vedere se c'era vita questa è un poltrone vanessa poltronati saluta nonna di buongiorno ciao nonna buongiorno sembriamo a mezzanotte qua seiii è so chelastrion seiii è so chelastrion Grazie a tutti.